Io mi sono alzato a luna, sentivo questa confusione e ho visto circa sei ragazzi, c'erano oltre che maschi, c'erano anche le femmine e gli ho detto ora avverto la polizia, cosa che non era vero. Allora sono preso, sono usciti. Però hanno distrutto completamente un gioco? Sì, quello lì hanno distrutto completamente. Giovanni Vandali in azione nella notte al parco di San Leo, immediata periferia Aretina, completamente distrutto uno dei giochi per bambini. Si tratta di una teleferica, ossia una piccola funivia, oggi completamente rovinata. Una mara sorpresa per l'intera comunità che per un anno aveva raccolto fondi proprio per realizzare un giardino per i più piccoli. Una raccolta di paesi del paese, dei circoli, delle persone normali e sarà comprato tutta questa roba. Insomma oggi come ci si rimane? Insomma. Una bravata forse, ma che indubbiamente ha acceso la rabbia dei residenti. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine, ma adesso addirittura c'è chi sta pensando a delle ronde notturne per controllare la zona dei giardinetti e evitare che altri episodi simili si ripetano. Infine l'appello dei residenti è rivolto a chiunque abbia visto qualcosa questa notte.